Milena Gabanelli torna al timone di Report che riparte su Rai 3 dal 10 ottobre dalle 21.30 con grandi novità. Intanto il giorno di programmazione non è più la domenica ma è fissato a lunedì e poi, cambiamento ancora più sostanziale, la giornalista Sabrina Giannini, storica collaboratrice della Gabanelli, condurrà una striscia quotidiana di approfondimento sull'alimentazione dal titolo Indovina chi viene a cena. Le puntate saranno 10 e andranno in onda ogni lunedì prima di Report alle 21.05. La Giannini aprirà il programma con una intervista per poi passare il timone alla Gabanelli. La primissima inchiesta seguita da Report riguarderà il mondo debbiologico, un settore in fortissima espansione che vede impegnate oltre 60.000 imprese con un fatturato del 2015 stimato intorno ai 4,3 miliardi di euro. Appuntamento lo ricordiamo con Report a lunedì 10 ottobre alle 21.30 su Rai3.